Ciao a tutti! Ciao a tutti! Questo è il nostro secondo rapper vlog. Allora, siamo stati molto contenti dell'affluenza che c'è stata all'assemblea. L'unico problema è stato che c'era tanta gente per i corridoi e, insomma, sarebbe meglio andare nelle attività, a fare attività e non stare in giro per i corridoi a fare niente. Siamo stati molto contenti anche della gita sulla neve, che c'è stata il 29 gennaio. Rispetto agli altri anni c'è stata molta più partecipazione, però nonostante questo è andato tutto bene. Ci vediamo l'anno prossimo! Ci siamo andati a parlare in segreteria per il vestiario e abbiamo consegnato i modelli, però c'è stato qualche problema tecnico con la segreteria e quindi le cose si sono un po' prolungate. Però adesso, entro metà febbraio, noi, noi rappresentanti, andremo a parlare appunto con le ditte di persona e quindi sapremo che ditta utilizzare. Sì, a metà febbraio faranno il bando e poi sapremo tutto. Vi confermiamo il fatto che il vestiario arriverà entro la fine dell'anno. Ieri il ballo di istituto abbiamo trovato il posto, è Villa Boschi. Sappiamo che è lontano, per cui pensavamo di organizzarci con delle navette. La data del ballo è ancora da stabilire, comunque sarà verso fine aprile e inizio maggio. Ciao! Bene, ciao! Ciao! Allora, siamo stati molto contenti dell'affluenza che c'è stata all'assemblea. Solo che abbiamo visto che c'era tanta gente per i corridoi. Insomma... Signoriamo i modelli in segreteria. Hanno prolungato le cose e diciamo... Stringetevi un pochettino. Perché dici ste robe? Aspetta, ricominciamo. Ehm... Tocca a me. Ehm... Blablabla... Ricominciamo. Ehm... La data non la sappiamo ancora precisamente, comunque sarà verso fine febbraio. Ma che fine febbraio? Non sarà più il 20 gennaio perché il 21 scade di domenica e quindi... Il 20 gennaio! Il 20 maggio! Il ballo si terrà... No, no. Di ridirla! Buttei! So cosa devo dire! Lasciatemi! Di ridire per... Percare l'altra volta! Ve lo giuro!